L'asilo di Contè di Montebelluna chiuso per allarme batterio trovato nell'acqua potabile. Fortunatamente nessun disagio per i 100 bimbi e ospiti al sabato l'asilo è chiuso ma ad oggi non si sa se lunedì riaprirà o meno. In caso affermativo sarà comunque vietato bere l'acqua, ci dice il sindaco Marzio Favero che questa mattina con propria ordinanza ha disposto la chiusura urgente della materna a scopo precauzionale e per questioni igienico sanitarie riporta la disposizione. In attesa di conoscere gli esiti delle analisi sui campioni di acqua prelevata dagli ispettori sanitari da puntualizzare che nessun bambino sembra aver accusato alcun tipo di malore. La chiusura dell'asilo sarebbe frutto dei controlli preventivi effettuati periodicamente dalla ASL negli edifici pubblici, scuole e asili compresi. Nel corso dell'ispezione il ritrovamento del batterio nelle tubature dell'acqua da parte dei tecnici dell'azienda sanitaria. Ecco C'è